Ecomob, un importante appuntamento per ribadire quanto è importante la mobilità eco e come vanno allora le cose con questi nuovi tipi di bicicletta? Sì, sicuramente va sempre meglio. Ogni anno che passa c'è un incremento delle vendite, dell'interesse. Siamo qui per un altro anno perché abbiamo promosso proprio l'idea di questa fiera che continua ad avere sempre più successo. Il mondo dell'elettrico è quello che comunque adesso ha più interesse, ha nei motori, nel design sempre più un'evoluzione. Numeri importanti anche a causa della pandemia? Sì, ha stravolto un po' il nostro modo di lavorare. Sicuramente non ci aspettavamo tutto questo interesse. È stata una cosa improvvisa. Come abbiamo riaperto dopo il Covid siamo stati praticamente presi d'assalto. e purtroppo non è stato possibile accontentare tutti perché la richiesta è troppo esagerata. Le aziende, anche loro, non si aspettavano tutto questo. Soddisfatti che la regione Abruzzo diventi sempre una regione più apportata di mobilità sostenibile? Sì, molto perché comunque siamo l'unica regione ad avere da un lato il mare e dall'altro la montagna e quindi si presta un po' a tutto.